L'Abruzzo è tra le sette regioni italiane che, come riporta il Sole 24 Ore, non hanno assunto alcun dipendente nei centri per l'impiego, nonostante i 5 miliardi messi a disposizione dal Governo attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il capogruppo e il consigliere del Partito Democratico in Consiglio regionale Silvio Paolucci e Antonio Blasioli parlano di incapacità e di ritardi della giunta guidata dal presidente Marco Marsiglio sulla gestione delle politiche attive del lavoro e sul potenziamento dei centri per l'impiego. Il consigliere Blasione evidenzia che la Regione Abruzzo dal primo Governo Conte ha a disposizione circa 22 milioni di euro stanziati per potenziare i centri per l'impiego e potrebbe assumere 250-260 dipendenti, ma ad oggi non ha bandito concorsi. Nonostante gli annunci che provengono dalla giunta Marsiglio di prossimi bandi, in realtà fino ad oggi non si è visto niente, sono passati già due anni dal 2019. La verità è che i centri per l'impiego non funzionano, non funzionano ahimè per carenza di personale, quindi sono impossibilitati veramente a funzionare e ci sono anche i fondi per procedere a queste assunzioni. In realtà non si fanno, non ci sono bandi, ci sono centri per l'impiego con tre persone veramente impossibilitati a funzionare neanche nell'ordinario, figuriamoci a incontrare tra domanda e offerta del lavoro, a incrociare questi due aspetti. In questa situazione c'è anche l'aspetto dei navigator, sono 48, ne erano 54 all'inizio, svolgono spesso anche funzioni che sono propri dei dipendenti del centro per l'impiego e ormai lavorano da due anni e mezzo. Il loro contratto scade il 31 dicembre di quest'anno. A fronte di questo, delle 260 assunzioni che la Regione Abruzzo deve fare per incrementare le politiche attive del lavoro, noi chiediamo che ci sia una riserva anche per loro.